Diamo, vai. Dove abita Ennio? Qualche settimana fa, Mazzoli ha chiamato nel suo studio Wender, perché voleva chiamare Ennio, per farsi fare un piccolo insert nel blocco di studio aperto. Sono i tuoi pazienti questi. Ennio? Ennio? Come andiamo? Tutto bene? Perché? Ma perché? Ma dove l'hai trovato? Ma che cos'è sto robo? Non è umano. Non è umano. Mazzoli sconcertato. Inizia a capire che Ennio è veramente fuori di testa. O rispondi e parli, o non rispondi. E ritenta la chiamata con Wender al mixer. Pazza! Ennio! Ennio! Volevo... Allora, la chiamo da studio aperto, il telegiornale. Mi sente? Ma perché? Mazzoli inizia a capire che chiamare Ennio non è un gioco. È faticoso, eh? È un lavoro chiamarlo. E ritenta nuovamente. Sì, buonasera, salve, la chiamo da... E dopo essersi fatto dire quello che voleva... Compro Tisa! Compro Tisa! Ok, perfetto, la ringrazio tantissimo. ...ha iniziato ad imbarcarlo, proponendogli di andare a burrare con qualche vecchia. Andiamo a burrare? Dov'è che andiamo a burrare? Eh, io sono di Piacenza. Magari ci troviamo in centro e andiamo a burrare. Porca la... Ma c'hai ancora le donne e le macchie da burrare? C'è per farci le donne da burrare? Se ha voglia andiamo insieme. Porca la... Ma è il mio contagno della macchia del paese da burrare? Puttana la... Non ti fanno più vedere! Non ti fanno più vedere la macchia, bastarda! C'ho una... Dove sei? Dove sei? Bruto Mastago, dove sei? Sono a Piacenza, Piacenza, centro. Portala! Non sei mica vicino? Non sei... Sono vicino a... Sono a rete mia! Sono a rete mia! Ah, cazzo! Rete mia! Puttana la... Eh, 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 perché c'è... C'è... C'è questa... C'è questa... C'è questa... C'è questa... Mi voglia la donna da burrare! Mi faccia parlare! C'è questa giornalista di... La mia collega Che adora chi lavora in campagna E si fa burrare C'ha un buco di culo così, Enio C'è la... Ma io non c'è... Non c'è la mia... C'è la nostra... Andando! Andando! Mi portava su la donna da burrare, bastardo! E c'è la... Senti, Enio! Enio! Bastardo! Enio! C'è di me ancora! C'è di me ancora! Andando! Arnaldo! Wender Sa che Enio non sa pronunciare la parola Uova E allora lo dice a Mazzoli Che parte all'attacco Hai per caso delle uova? Dele uova! Dele uova! Dele uova! Che cosa vuoi fare? Eh no, perché a questa qua Gli piace... Gli piace farsi infilare le uova nella... Porca la... Dele uova! Nella figa! Le uova! Le uova! Le uova! L'ho capito! L'ho capito! Uova, Enio! Uova! Le uova! Le uova! Uova! Ce l'hai? La vecchia da burrare Voglio la vecchia da burrare Eh, allora, senti Stasera Tu c'hai la macchina? C'hai la macchina? C'hai la macchina? C'ho la panna parola! C'ho la panna parola! E vieni a piacere! No, 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 no C'hai la piacere! Devo venire a piacere! C'è la pazzata! C'è la pazzata! Vuoi che ti faccia venire a prendere dal mio autista? Mio autista! Aia! Aia! Allora, non so chi sia Non so chi sia Io lavoro per studio aperto Il telegiornale Enio Lei Enio Enio Lei, se fosse in diretta adesso a studio aperto Cosa direbbe all'Italia intera? C'ho la pazzata! Bravissima, bravissima Senta Facciamo così Lei scende in paese a Reggio Emilia E poi la faccio venire a prendere dal mio autista Altra parola consigliata da Wender Amazzoli Geronimo Ci vediamo davanti al bar Geronimo Aia! Aia! Geronimo! Sì Bar Geronimo! No, a Gelenonimo Dov'è? Dov'è Geronimo? È in piazza In piazza a Reggio Emilia È in piazza Reggio Emilia Sì Sta che diamo Quando devo sedere? Quando devo sedere? Stasera Che ore sono adesso? Sono le 5 e mezza Eh ma lavati Lavati il cazzo però Non mi arriva il puzzolente Certo che mi lavo Mi lavo Con la cosa Con secchio Con secchio Mi lavo col secchio Mi lavo come Dai 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 Col secchio? Ma no no Solo Mi lavo con acqua Nel secchio Nel secchio Ma scusa Ma dove cazzo? C'ho la gomma dell'acqua C'ho la gomma dell'acqua Cos'è la gomma dell'acqua? Cazzo La canna Ah ho capito Ma a te piace Adesso Enio Bisogna cambiare Entro il 2030 Ti prenderai una bella Tesla Immagino Elettrica La Tesla Quella macchina a forma di uova Nel frattempo Johnny Sta indossando Il vestito da Arnaldo Per dargli il colpo finale Ma non lo voglio Vabbè Enio Enio Allora Facciamo sette e mezza Ti faccio venire a prendere Dal driver Te lo passo così Gli dici Dal driver Dal driver L'autista 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 Come andrà a finire? Wender e Johnny Riusciranno a trovare L'indirizzo del vecchio Spala Merda? Prossimamente Nello Zobby 105